e non parlano più alcuni milanisti che conosco eh e non parlano più alcuni milanisti che conosco eh e non parlano più perchè pensavano alla Roma e invece al Milan che prende due pizze oggi scusate ma da romanista io in questo momento sto godendo come un riccio come dice Ranieri perchè? perchè sto ridendo? perchè come dice il nostro Luca che devo dire? stanno a godere come i ricci stanno a godere ragazzi ragazzi che dire sono contentissimo per due motivi uno mi tolgo tanti sassonini dalla scarpa perchè dalle scarpe perchè su Instagram mi sono imbattuto da quest'estate con milanisti che non capivano lo sfottore che facevo con alcune pagine no aspetta perchè c'è gente che parla c'è gente che risponde in campo quindi io godo sono troppo contento poi ragazzi possiamo dirlo già quando nemmeno scocca un minuto Javier Pastore che partita Pastore ma perchè lo dovevo dire? ma si è visto scusami un attimo ma per chi magari non l'avesse vista vabbè allora capito va bene ok dobbiamo dirlo che partita ragazzi Javier Pastore ragazzi ha rischiato di andare in gola per tre occasioni poi si muove molto molto bene sono contento comunque scherzi a parte oltre a lui ho visto una bellissima partita per come è partito anche se al secondo tempo di Antonucci Antonucci ragazzi è entrato bene in partita ho sciolato e veniva tutti pure l'uomo ha preso una certa sì sì ma è una nota tremenda è stata poi Pastore soprattutto che sei dentro il piano di tre e il quattro e cinque sembrava di vedere quello del Palermo ha fatto due tunnel consecutivi sembrava di vedere il Pastore del Palermo Padre Pioli Schiaffi è riuscito a fare davvero rivitalizzare anche Pastore ma soprattutto io non ho un messaggio al signor Capello perché parla di Zagnolo aspetta aspetta parla di Zagnolo possiamo dire che nel sistema tecnico-tattico fatta la lingua c'ha la copertina capito? tecnico-tattico la Roma ha giocato bene e Zagnolo grande giocatore ragazzi questo chi era però? io ne so ho provato a fare Capello però mi sembra più secco oggi ti grano loro va bene allora ragazzi che dici Capello parlasse più spesso del Zagnolo perché a parole trovate due gol consecutivi portasse bene Capello dicevano che Totti Totti dicevano che era finito era finito au ma che Totti finito è finito l'animaccia vostra eh no questo lo dovevo dire vabbè vabbè scusa ma non era finito vabbè poi lascia la cattura salutiamo il nostro Luca seguiteci su Roman Crew ovviamente poi ragazzi Dzeko Dzeko pure con la mascherina segna di testa Smalling e Mancini che partiranno ragazzi oggi onestamente ho visto una Roma ben organizzata in campo il Milan ma che sei di Batman Batman è di Dzeko esatto e Joker chi era invece il pagliaccio? Joker un pagliaccio dalla partita a casa un pagliaccio dalla partita a casa con Magnoli no perché l'ha cesi eh è Joker esatto comunque ragazzi il Milan in difesa scandalosa cioè il Milan perde certe palle cioè davvero ha rischiato ha rischiato di prendere più schiaffi nel senso prima nel primo tempo Conti dorme praticamente e serve perotti che poi appunto c'è l'occasione di Pastore poi anche Calabria perde palle cioè il Milan nella prima metà campo ha perso delle palle velenosissime velenosissime e poi devo dire la verità c'è gente vieni a commentare sta cosa che è un po' ostica che cosa? ho sentito alcuni milanisti per dare che c'era l'espulsione per Dzeko vai ma manco per niente perché gli ha fatto così è come dire benvenuto prega mi è cascato per te ma dai su ma l'ha preso veramente così l'ha preso l'ha preso ascolta un po' fammi provare no no ha orsato orsato no comunque ragazzi veramente per me non è stato sì vabbè magari è esagerato Dzeko quello sì però ma la cosa così deve è stato che orsato però l'ha fatto ha fatto un arbitraggio molto all'inglese ha lasciato correre parecchio ha lasciato correre parecchio ma magari fosse sempre così ma magari magari comunque ragazzi se dovessimo fare un confronto secondo me la Roma ha meritato la vittoria anche perché poi Lopez ha fatto tre parate bloccate quindi centrali a parte c'era un oculone una certa mi ha dato la sensazione appunto che avesse segnato invece la palla è uscita fuori ma Donnarumma un paio di interventi la dovevi effettuare salvando la situazione e soprattutto Mancini Smalling da calcio d'angolo stavano per segnare e lo sottolino perché veri tu dalla bandierina la mette sempre in testa è un cecchino è un cecchino tre teste ha preso tre teste prima gli angoli sempre a caso andavano ma finalmente hanno un senso sono di Giacillo ma che batteva sempre Florenzi fate le domande se oggi non hanno giocato allora ragazzi che dire sono contentissimo seguitemi su Instagram vediamo anche il nostro Luga da Pablo Giandros è tutto lasciate un commento un like iscrivetevi adios